Allora, attenzione ragazzi, c'è una base segreto? Base segreto, bravo! Whatsapp ha annunciato la nuova funzione che si chiama Chat Lock che permetterà di creare delle chat segrete proteggendole da sguardi indiscreti grazie a un magico looketto La funzione Chat Lock è attualmente in fase di distribuzione Ok, quindi supponiamo, io e Andrea Prevignano siamo fidanzati Io ho un dubbio che Andrea Prevignano si stia messaggiando con qualcuno Giorgio Di cui io invece sono innamorato Ma io invece vado su TikTok a guardare le zozzette Non ti rispondo Se no questo è lui che ama lei Io ho questo dubbio, cosa faccio? Notte tempo, con il cellulare, lo rivolgo verso Andrea Prevignano così, sblocca Attenzione, devi sollevargli le palpebre con due dita per aprirmi gli occhi Questo già presuppone che noi si dormiamo insieme Certo La storia è già iniziata Nella storia siamo una coppia, ok E io a questo punto scorro tutte le chat e trovo Patrizio Mattei, Veronica Di Pietrantonio In cui parlano male del trio Medusa Hanno la chat del trio Medusa pezzi di merda E poi ne trovo una lucchettata Solo una Certo, ce l'ho scoperto Attenzione, il funzionamento tu trovi in alto, in cima, sopra tutte le chat La scritta chat segrete Chat segrete No, no, lock, lock C'è scritto lock Con il lucchetto E questo sicuramente mi fuga ogni dubbio Ma certo Ma che cazzo sei? Ma certo Ma scusa, ma è evidente che Però c'è la possibilità, l'illusione di avere una chat segreta Nella quale il tuo compagno, la tua compagna o anche il tuo amico Perché potresti sparlare appunto, come hai detto, di qualcun altro Dove non può accedere Ma in realtà sai come può accedere? Ora te lo spiegherò a previ Riaprendo gli occhi Andando, rificcando gli le dita degli altri Insomma, moralmente inaccettabile che qualcuno ti controlli i messaggi Questo già è la roba Partiamo da questo Ma poi è evidente che se hai una chat lucchettata Hai qualcosa da nascondere Mi pare una missione di colpa Ma come funziona? Beh così, interessante Per attivare lo strumento basta tenere premuto sulla chat che si vuole Rendere segreta E poi devi seguire questi tre passaggi Clicchi su Info Chat Sì Che ti porta a Lucchetto Chat Ok Poi tocchi Proteggi questa chat con l'impronta digitale Oppure con Face ID E poi fai tap su Visualizza Per vedere la chat nella cartella con Lucchetto Perché queste chat vengono messe poi tutte da una parte Adesso scateniamo l'inferno 342 00 00 700 Se tu vuoi che qualche cosa non si trovi Lo devi mettere in bella vista È come le cose di valore a casa È inutile che tu li nascondigli C'è la vita del nascondiglio a casa voi? Per ogni cosa C'ho il nascondiglio per le sigarette Eh? Ma poi me li scordo Ma esattamente È quello Se io sposto qualcosa da dove sono abituato a metterla Non la troverò mai più Adesso chiamiamola patitucci Che nascondeva i contanti A dove? Nel vaso in terrazza Nascondeva Eh sì Una volta Adesso Secondo me Cioè quella è una bella idea Perché mica che il ladro alza Cioè tu lo devi mettere in evidenza Giusto? Quindi Metti le foto Che ti sei scambiato con Fai le stampi Le stampi E le apprendi Come screenshot Ce l'avete il nascondiglio a casa? No nascondiglio ce l'ho Ce l'ho per i soldi Che in mezzo a dei documenti Cioè Ma però l'ho detto Vedi ora Ma non lo dite Lo so ho sbagliato Ah esatto io non lo uso più La schiuma da barba falsa ce l'avete sì La schiuma da barba che si No c'ho la pila Io c'ho la pila falsa Io pure però ci metto le pillolette Che pillolette? Che pasta Non voglio sapere No gli enzimi Sì 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 Io c'ho messo delle sterline Dentro la cosa E poi mi sono scordato Sono fuori corso adesso Che cazzo farci Nascondigli 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 Ma anche Lucchetti mi piace Quella che Lucchetto mi piace Che cosa hai Lucchetta Da parte la classica bicicletta Il diario magari Il diario Anche lui è un grande classico Secondo me i nostri ascoltatori Ci stupiranno